semifinale anticipata quella del la sd dell'eat league vede sfidanti l'olimpia contro spillo birra sarebbe potuto essere una finale all'anno anticipata in semifinale vedremo delle belle sicuramente due squadre aggressive avvincenti vedremo chi la spunterà l'olimpia può rifavorire di questo possesso palla regalato la finta lo scarico al centro solo uno contro uno la finta ancora si fuma sia difensore che portiere c'è l'1 a 0 olimpia primo tiro primo gol può subire di un calcio d'angolo spillo ancora morbido testa però attenzione il flesso del portiere dell'olimpia che salve ancora lo scarico dietro vedete tutto l'olimpia trova adesso un barco sulla destra il numero 7 il passaggio c'è l'1 a 1 per spillo pareggia i conti posizione da mattonella interessante per l'olimpia uno schema la mette in mezzo fuori sinistro è ancora olimpia passare in vantaggio 21 messa laterale buona ancora il sinistro e 3 a 1 olimpia chirurgico fischio del primo tempo si conclude qui la partita metà 3 a 1 limpia che sicuramente è stata più cinica davanti spillo dovrà fare sicuramente qualcosa in più se vorrà recuperare questo match passare alla fase finale che prendono l'ostilità un secondo tempo addirittura un tiro da centrocampo ma blocca bene il portiere e riparte spillo palla ora un po di lotta centrocampo ma scrutta spillo ed ancora con il numero 7 3 a 2 riapre i giochi ancora spillo ma è sbagliato l'appoggio può ripartire l'olimpia ma dopo batte ribatti riparta ancora spillo buona l'appoggio il sinistro la risposta però del portiere che mantiene a galle rigore per spillo era il numero 10 sinistro e la parata clamorosa del portiere dell'olimpia a passare questa semifinale combattutissima rigore sbagliato addirittura da spillo che avrebbe permesso di passare almeno ai calci di rigore ma è andata così l'olimpia passa per 3 a 2 di misura su spillo guadagna questa finale